Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, prima di cominciare un tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale e di lasciare un like oggi vi spiego come ottenere questa skin punk di Halloween, anche se Halloween è finito per me è tutti i giorni Halloween, questa è la skin quindi ottieni 10 livelli, 25 livelli, 50 livelli account e che ci vuole? Proprio dalla parola, ottieni i livelli account, ottieni 50 livelli account per la skin che sarebbe livella, livella su Fortnite livella con i tuoi amici, da solo, con i bot, con chi vuoi ecco, livella account, io ne ho 245 da quando ho iniziato a giocare ma tanto non è che gioco tanto a Fortnite, però livellando, uccidendo, cazzeggiando, facendo anche delle missioni anche per quel bot, il personaggio che si muove nella mappa, la skin punk di Halloween quindi quello che dovete fare è livellare, giocare, farmare, uccidere, vincere le partite e fare incarichi, ok? Semplice potete anche andare da lui, ammazzarlo, che vi frega, almeno fate qualche punto fate qualche missioncino per lui, fate qualche incarico e niente, niente di che, ok? anche facendo danni, facendo tutte queste cose così alla fine, era una cosa semplicissima ottieni livelli account che sarebbe? livella, sale di livello tutto qua quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione se questo video vi è stato utilissimo ti consiglio di iscriverti al canale e di lasciare un like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao